Bentornati all'appuntamento con le news, chi dice che il genere survival horror è morto si sbaglia di grosso. Grazie a produzione indie come Outlast disponibile su PC e presto su PlayStation 4 in maniera gratuita per gli abbonati a PlayStation Plus. Scopriamo questo fantastico horror insieme. Outlast disponibile su PC e prossimamente anche su PlayStation 4 è un titolo capace di riportare sui fasti il genere horror, un'avventura straniante, terrorizzante e atipica in grado di far sobbalzare sulla sedia qualsiasi giocatore. La visuale in soggettiva non traga in inganno, Outlast non è uno sparatutto in prima persona, il fulcro del gioco risiede nella fuga. Fuggire dagli ospiti di un manicomio che farà da scenario all'intera avventura, superando le difficoltà portate dal peso di un protagonista evidentemente sconvolto e più che mai umano, come peso e capacità di reazione. Il ritmo di gioco centallina bene i cambiamenti tra le fasi di esplorazione e quelle in cui la fuga è l'unica via percorribile. Ottimi i movimenti della telecamera, la gestione delle fonti luminose e il comparto audio, che corroborano una situazione sinceramente paurosa. Tecnicamente sopraffino, grazie all'utilizzo dell'Unreal Engine 3, Outlast è sicuramente un titolo imprescindibile per gli amanti dell'horror.